Mac Studio vale 7.000 euro? Io investirei serenamente in un chip M1 Ultra, un Mac Studio con M1 Ultra, però è da provare, da provare. Sicuramente il Mac Studio è un'alternativa da considerare. Sono passati quasi 5 mesi dalla presentazione del nuovo Mac Studio. Quel giorno ero decisamente molto eccitato all'idea che finalmente Apple avesse preso tutto il buono che aveva fatto fino a quel momento con i processori M1 e l'aveva spostato, un'attacchetta ancora oltre, verso i professionisti, ma non verso il classico professionista freelance, ma verso i professionisti che vogliono avere una workstation fissa. Meglio ancora, una workstation fissa che può essere trasportata. Prima di andare avanti voglio ringraziarvi perché mi state seguendo in tanti e vi ricordo di iscrivervi al canale perché mi fa capire che il lavoro che svolgo è apprezzato da voi. Lo so che è apprezzato per chi mi scrive nei commenti, per tutti i complimenti che ricevo, ma un piccolo gesto che a voi non costa nulla per me invece vale tanto. Non è la prima volta che Apple fa un lavoro del genere. Già nel 2013 Apple aveva fatto un'operazione molto simile, realizzando un Mac Pro che da tutti ha definito il cestino. Era quel cilindro nero di design davvero molto interessante nell'estetica che aveva delle configurazioni davvero di tutto rispetto, lavorativamente parlando. Tant'è che praticamente tutti i professionisti del mondo, al di là del design, avevano optato per affidarsi a quel tipo di computer per poter lavorare. Con tutto che, con l'introduzione di quel Mac Pro, era praticamente venuto a mancare quella che era l'espandibilità dei computer di Apple. E sì, perché uno dei grandi nei, quando parliamo di computer professionali, di computer che vengono utilizzati dai professionisti, è l'espandibilità. O meglio, fare un investimento e poi, dopo tot tempo, andare a fare un upgrade. Quindi, com'era il Mac Pro di una volta e com'è il Mac Pro attuale. Perché adesso quello che è stato definito computer per professionisti non è il Mac Pro. Il Mac Pro, infatti, è un computer che rimane in line-up Apple che purtroppo adesso cozza un pochino con la filosofia dei prodotti attuali. Mac Studio è stato amore ed odio sin dal primo momento. Subito dopo aver visto la presentazione ho fatto un video dove raccontavo quello che avevo provato nel guardare le informazioni e l'esaltazione di quel momento. Ma poi ho atteso una quindicina di giorni, ho ragionato, ho fatto le mie valutazioni da professionista del settore e mi sono reso conto che dopo aver ben spremuto un processore M1 Pro mi sono reso conto delle potenzialità che aveva quel sistema di processori mi sono detto, secondo me è il computer che può fare il mio caso. Ed è quello che ho fatto. In pratica ho ordinato il Mac Studio. Ma sono passati quattro mesi. Sì, ho dovuto attendere circa quattro mesi per poter ricevere la mia configurazione. Apple ha fatto probabilmente male i calcoli. Secondo me non si aspettava una tale mole di richiesta e special modo una tale mole di richiesta di CTO. Cosa sono le CTO per chi non fosse del settore? Sono le configurazioni fatte ad hoc. Nello specifico, quando andate sul sito Apple, tutte le configurazioni di base che trovate sono modelli base che tra le altre cose hanno la possibilità di avere il reso. Mentre quando andate a fare una qualsiasi variazione diventa una CTO. Quindi una configurazione fatta ad hoc secondo le vostre richieste. Normalmente io quando ordino prodotti Apple necessariamente da professionista ordino una CTO perché ho bisogno di più RAM, ho bisogno di un harddisco più capiente, dell'altro processore, bla bla. E quindi ho ordinato il Mac Studio. E dove l'ho ordinato? Che è un reseller dove ordino tutti i miei computer. Se qualcuno ha visto mai qualche mio video dove parlavo del noleggio operativo dei computer, beh, saprà dove prendo questi computer. Ho fatto l'ordine di noleggio e praticamente quando sono partito per le vacanze, la prima settimana di agosto, mi è arrivato e ho dovuto attendere sette giorni per poterlo aprire. Vado al di là dell'esperienza di unboxing e di quello che si prova, come al solito, a scartare un nuovo prodotto Apple. In realtà questa volta quando andavo a scartare, andavo a scartare 7000 euro di prodotto Apple, che è un concetto un pochino differente. Ho speso tante volte tanto con Apple, probabilmente questa è la prima volta, l'ennesima volta che supero la soglia. Io ho avuto un Mac Pro, un Mac Pro cilindro, un iMac Pro e adesso il Mac Studio. Questo è stato il mio passaggio di computer professionali Apple, passando naturalmente per almeno sei portatili. E devo dire, come al solito, Apple ha la cura maniacale, tutto quello che è l'esperienza di apertura del suo prodotto, rende ancora migliore il momento in cui ti arriva. Probabilmente serve proprio a creare sempre di più quell'hype interiore, ma essendo un professionista, per me è fondamentale come il computer gira, anche se in quel momento l'avevo comprato, quindi non potevo farci null'altro. Ora, giusto un accenno su cosa ho comprato. Ho preso un Mac Studio con 128 giga di RAM, processore M1 Ultra da 48 core di GPU e un tera di SSD, se non vado errato. Poi tutto il resto, tutte le caratteristiche sono uguali praticamente per ogni computer, per ogni macchina, qualsiasi configurazione venga presa. Ora, giusto due note sul tipo di scelta che ho fatto. L'unica cosa dove ho pompato al massimo è la RAM, perché la RAM la uso tutta, costantemente programmi come After Effects, Nuke, Fusion, purtroppo sono un mangia RAM, quindi in qualsiasi cosa faccio, i 128 non dico che li saturo sempre, ma sono puntualmente sui 110, 112, in base ai limiti che ho impostato nei vari software. Quindi per me 188 giga di RAM, non essendoci espandibilità, erano fondamentali. La questione processore, ho scelto l'M1 Ultra, perché necessariamente se prendevo una macchina per lavorare, avevo bisogno di una macchina CPU barra GPU abbastanza performante. Io, sull'altra workstation, quella PC, utilizzo una 3080 ed un Ryzen 5900X, se non ho modo errato, da 12 core che diventano 24 tiered. E in questo caso invece con l'M1 Ultra, nelle configurazioni M1 Ultra da 48 GPU core e 60 GPU core, avrei avuto comunque i 20 core di CPU. Quindi già il passo di CPU si sente, si vede, si percepisce un numero maggiore di CPU, di core di CPU, anche se non vengono interpretati come fa Ryzen o Intel, che raddoppiano i core logici. Quindi ho da un lato 12 core, in quest'altro caso 20 core. E dai primi test che ho fatto, naturalmente 20 core sono meglio di 12. Mentre questione GPU, beh, lì avevo degli enormi dubbi. Non avendo potuto provare io personalmente le due configurazioni, quindi la 48 core GPU e 60, non sapevo bene dove andare a impastare le mani. Sapevo soltanto che vi erano 2000 euro di differenza. Non potendo provare, e vedendo comunque il mio budget, comunque non poter andare troppo oltre, ho fatto una valutazione basandomi su tutto quello che riuscivo a trovare online e ho scelto di prendere 48 core di GPU. Sicuramente non dovevo giocarci e quindi la maggior parte dell'utilizzo della GPU non ne avevo bisogno. Di 3D, special modo in tempo reale, non ne faccio per ora e di 3D in generale, in viewport, già con la 3080 su PC, lavoro molto egregiamente. Dall'altro lato ho notato da tanti test che la mia 3080 si avvicinava ai 48 core di GPU di Apple. In realtà i 48 core di GPU sembrano andare un pochino oltre quella che è la mia 3080. Quindi tutto questo naturalmente basandomi solo ed esclusivamente sulle notizie che trovavo online, i test che trovavo online. Ed ho preso la decisione di puntare su quello. E poi c'è un Tera di SSD. Per me il minimo va più che bene perché comunque tutti i miei file sono sempre conservati su hard disk esterni. In generale come va? Beh, ho fatto dei test miei personali nell'utilizzo quotidiano, lavorativo, sia con una workstation PC che con quella Mac, che con il Mac Studio. Naturalmente ho notato delle differenze. Ora vi descrivo anche quello che è la mia workstation fissa, che è un Ryzen 9 5900X con 188 GB di RAM, una 3080 e un paio di SSD all'interno per i dati. Quindi insomma, questo è il tipo di macchina con cui ho fatto il mio confronto. E sì, la differenza c'è, special modo nella parte render dove utilizzo molto la CPU, dal compositing anche al 3D, e sì, la differenza si sente, ci sono quei core di differenza, quei core di CPU di differenza che si fanno sentire. La parte GPU invece la utilizzo tantissimo nella parte di preview del lavoro e anche lì lavorando, ultimamente stiamo lavorando molto con delle scene a 32 bit, quindi molto profonde, dove c'è bisogno di un enorme mole di dati, di calcoli dati su GPU e trovo il Mac Studio più rapido nel calcolo, riesce a darmi qualcosina in più. Ma, devo dire, ma non esiste nulla nel settore video, quello molto complesso, che non vada a scatti. Cioè, comprando il Mac Studio e pagandolo 4, 7 mila, 8 mila euro, non si risolvono tutti i problemi, ossia non si può prendere un file 8K RAW e metterlo in play. Oddio, questo ci riesce a fare. Ma andando a fare compositing, lavorando il 3D, non si riuscirà mai ad avere un tempo reale, qualcosa in tempo reale. Anche la stessa parte di color, quando si va ad esagerare un po' troppo. Fate le mie distinzioni, col Mac Studio ho fatto il render di una color e ci ha impiegato 2 ore e mezza, mentre sul PC ci impiegava 4 ore e mezza. Quindi in questo caso l'elaborazione del calcolo GPU, nel caso di DaVinci, dove abbiamo fatto la color, è servita ed ha aiutato, ed è velocizzato. velocizzato, ma con altri ma. Avendo PC, abbiamo basato il workflow di codifica della parte color in DNX, che è praticamente un formato proprietario di Avid, una sorta di codec barra, un prores di Avid, mettiamola così, sul quale abbiamo basato tutto il workflow di esportazione. Quando è arrivato il Mac Studio, abbiamo passato tutti i progetti sul Mac Studio, dovevamo fare l'export finale, e abbiamo deciso di farlo mantenendo le stesse codifiche, quindi in DNX. In DNX la macchina ha cominciato a dare enormi problemi, si bloccava, andava lenta, bloccava il render. Solo nel momento in cui ho passato la codifica da DNX a prores, la cosa è migliorata, quindi è migliorata anche tanto. E qui si vede il fatto che su questi processori sono installati dei core totalmente dedicati alla codifica e decodifica, solo del codec prores. infatti, questa è una delle funzioni principali che hanno questi processori M1 dal Pro al Max all'Ultra, il fatto di avere dei core dedicati solo al coding e decoding di H264, H265 e prores. In realtà sono proprio core diversi, sia per il prores che per l'H264, barra H265, e questa cosa si nota. Si nota quando si fa un coding, un decoding in H264, si nota quando si fa un coding o si vede una clip nata dal prores o che si iscrive in prores. Qui si vede esattamente, qua si vede la grande differenza, però si sono rimasto male perché vuol dire che non tutto la CPU poi può essere impegnata, impiegata per ottenere le stesse performance con altre codifiche differenti di altri produttori. Quindi sì, da un lato c'è qualcosa di davvero interessante, molto funzionale, ma se rimaniamo sui binari e sulle corsie che ha deciso Apple. Disclaimer, non è che a me vada male così, anzi, io sono molto contento che riesco a lavorare in proresse perché una delle codifiche che io preferisco è che prima causa mancata licenza di DaVinci su Windows non potevo utilizzare. Quindi a me va bene, ma è un limite che essendo che un professionista del settore non riesco a tollerare appieno. però diciamo che mi va bene quello che ho perché posso utilizzarlo. Ora veniamo ad un altro dei problemi del Mac Studio che è l'essere un computer piccolo. Sì, il Mac Studio è effettivamente un computer molto piccolo, molto elegante, ma non è quello che YouTube o Apple ci presenta. O meglio, è esattamente quello. Il problema è che in una reale condizione di utilizzo è sia un bel pezzo di design, ma essendo una macchina tecnica è piena di cavi, cavi ovunque e non sono piacevoli da guardare. È un po' come una workstation che mettiamo a lato scrivania o la mettiamo sotto la scrivania. Allo stesso modo il Mac Studio dobbiamo averlo necessariamente sulla scrivania perché è piccolo e compatto, ma è pieno di cavi. A me non fa specie, a me non cambia, però mi faceva tanto sorridere vedere colleghi YouTuber che posizionano il Mac Studio sulla scrivania, lo mettono al contrario, quindi neanche dal lato delle prese e ci fanno vedere che sulla scrivania di fondo è posizionato il Mac Studio bello, lindo, pinto, senza nessun problema. In realtà nell'utilizzo quotidiano io ho tutte le porte del Mac Studio completamente piene perché ho hard disk attaccati, perché ho monitor, cavi, corrente, il cavo di rete e quant'altro. Ecco, parlando dell'altro problema, mentre sulle workstation c'è la possibilità di poter installare all'interno dei case praticamente degli hard disk secondari, in questo no. Ora, è vero e possibile prendere un SSD da 8 tera se si vuol spendere quella cifra, parliamo di 3-4 mila euro per quel tipo di SSD. Per mia scelta personale per come gestisco le macchine da lavoro, la macchina da lavoro in sé deve avere un SSD per il sistema operativo e per i software e basta. Tutto il resto deve essere, tutti i file di lavoro devono essere posizionati su un disco a parte perché quel disco a parte deve essere esule da eventuali problemi di sistema operativo perché nel caso in cui muoia un computer io stacco l'hard disk con i dati, lo metto in un nuovo computer e deve funzionare allo stesso modo. Ecco, questa cosa in una workstation si può fare perché semplicemente si attacca un hard disk all'interno che siano SSD o hard disk meccanici da 3 pollici e mezzo da 2 pollici e mezzo qui non si può fare e quindi si ha la necessità o la necessità nelmeno nel mio caso di utilizzare dischi esterni e dato che io lavoro con un file di moli molto grande ho bisogno necessariamente di hard disk collegati in Thunderbolt USB-C 3.2 da almeno 8 tera 10 tera 12 tera qui ho un ride da 12 tera e un disco da 10 tera e purtroppo uno vado naturalmente a rallentare questo naturalmente posso risolverlo facendo un ride di SSD cosa qui sto lavorando e naturalmente abbiamo altro casino sulla scrivania perché normalmente questi hard disk sono grandi quanto il Mac Studio quindi da un lato bellissimo il form factor bellissimo il design ma in realtà per chi ci lavora davvero e veramente quella forma compatta sia un plus perché non ingombra tanto ma dall'altro lato ci impone di dover avere altre cose attorno di contorno un po' come è sempre stata Apple bellissimo il prodotto di base ma c'è sempre bisogno di qualche accessorio di contorno che rende il tutto più scomodo ora la fatidica domanda Mac Studio vale 7000 euro? sì sì a mio avviso li vale o meglio da buon prodotto Apple è secondo me leggermente sovrapprezzato c'è un motivo che mi fa dire questo Mac Studio vale questi 7000 euro che è quello dell'utilizzo a medio e lungo termine da professionista da imprenditore guardo sempre a tutte quelle che sono le spese accessorie accanto alla workstation che utilizzo che naturalmente non è soltanto la workstation in sé ma parliamo siamo in un periodo storico dove l'energia elettrica comincia a costare tanto e mettere sul piatto della bilancia una workstation che letteralmente mi consuma la metà di un'altra probabilmente non sul breve ma sul medio termine io riesco a colmare la differenza con il risparmio di energia elettrica e sì ho fatto dei test collegando una presa intelligente alla presa del computer alla presa dei due computer in realtà sia la workstation pc che il Mac Studio e il Mac Studio sotto render consuma la metà dell'altro sistema altro sistema che ha la necessità di alimentare molte più cioè no alimenta le stesse cose ma in maniera differente perché sono tutti i sistemi che devono essere alimentati ad hoc mentre qui c'è un solo processore che ha la RAM attaccata vicino e sul solo processore ci sono sia core di CPU che di GPU questa secondo me è la strada più intelligente per il risparmio ed è questo secondo me il futuro di tutto l'hardware che vedremo nei prossimi anni non tenderanno più a fare le cose ultra potenti ma tenderanno a fare sì potenti ma anche che consumino meno meno energivore perché questo è un grande punto al giorno d'oggi cioè una cosa da fare da farci molto caso quindi il fatto di pagare un po' in più la macchina ma di risparmiarne sul medio termine questa cosa mi piace e se devo pesare le due configurazioni il pc mi è costato circa 5500 euro il mac studio mi è costato circa 6500 euro quindi ho uno scarto di 1000 euro e al quale naturalmente vanno aggiunti gli hard disk vanno aggiunti monitor e quant'altro sì 1000 euro di scarto possono sembrare tanti non sono pochi assolutamente ma non li trovo così tanto esagerati proprio in virtù del fatto che ho una macchina una workstation che posso prendere e trasportare con molta più semplicità ho una macchina che mi consuma la metà dell'altra quindi letteralmente se è sempre accesa non mi crea problemi ed è poi sempre un mac e si porta dietro tutti i pro del sistema operativo mac os con tutti i contro naturalmente perché ce ne sono e evita di prendersi tutti i contro che ci sono su windows dove ci sono anche i pro naturalmente ma io sempre sono pesato avendo avuto sempre tutti e due i sistemi mac os è un pochino più stabile di windows quindi ritorno all'inizio mac studio vale 7000 euro per me sì solita considerazione di rito a chi lo consiglio sicuramente il mac studio può essere consigliato a diverse fasce di utilizzo dal fatto che parte con un processore che è l'M1 Max molto interessante e che sui portati l'ha dato davvero un grande boost quindi l'M1 nella configurazione Max al di là di quanto ramo mettete di che SSD utilizzate lo consiglio sicuramente a tutti i professionisti dell'audio del video della fotografia della progettazione architettonica insomma tutti coloro che utilizzano molto un computer per produrre il loro fatturato mentre nella configurazione ultra mi sento di consigliarlo a chi fa grafica avanzata quindi chi fa motion design a chi fa grafica 3D a chi fa animazione 3D a chi fa compositing quindi effetti visivi e a chi fa neanche color perché color già per fare color ce l'ho fatta su un M1 Pro da 16 giga di RAM ci ho fatto una color di un file 10 bit in 4k e ho colorato una cosa come su un solo progetto da Vinci 6 ore di runtime quindi ci ho fatta color e quindi già l'M1 Max è tanta roba naturalmente se si vuole il passetto in più e si vuole avere e si vuole essere sicuri di quello che si va a prendere un M1 Ultra anche per il videomaker evoluto per chi fa post produzione evoluta beh non è assolutamente male ora mi ricollego a un concetto che ho espresso all'inizio perché il Mac Studio non il Mac Pro io non ho preso l'ultimo Mac Pro per i costi perché spendere 20.000 euro di configurazione al di là della rotellina cromata o della maniglia li trovavo davvero una follia perché lì per esempio poi con 5.000 euro ho fatto una workstation su PC che per me per le mie esigenze andava decisamente bene e soprattutto ho fatto secondo me una scelta molto oculata perché il Mac Pro ad oggi è venduto ancora con le soluzioni ai processori Intel con le configurazioni di Intel Xeon che sì sono ottimi processori sì le GPU montate sono davvero molto performanti ma nel rapporto qualità prezzo secondo me non c'è storia vince il Mac Studio anche se l'espendibilità del Mac Pro è molto ma molto interessante ma da test fatti visti online praticamente il Mac Studio prende a martellate il Mac Pro in una configurazione quattro volte più costosa dello studio quindi se eravate interessati all'acquisto di un Mac Pro adesso avete il Mac Studio e non avete scuse perché finalmente Apple ha creato la workstation per professionisti a modo suo insomma io vi ringrazio per la visione vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video che usciranno e di seguirmi su Instagram perché lì pubblico le mie fotografie di pensieri un po' più profondi e di altre cose della mia vita quotidiana cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video con un nuovo video grazie a tutti